Ben ritrovati a tutti da Edoardo Ferrara di Tremi Meteo all'appuntamento con le tendenze per il medio e lungo termine. Focalizziamo subito la nostra attenzione per il capodanno e vedete dalla grafica alle mie spalle che la situazione non sarà molto diversa da quella attuale. Quindi avremo un ciclone di Islanda ancora molto forte che piloterà numerose perturbazioni sull'Europa centosettentrionale, perturbazioni che potranno a tratti interessare il Mediterraneo e l'Italia e proprio una di queste attesa non tanto per San Silvestro quanto per Capodanno, con piogge che in un letto di correnti occidentali interesseranno soprattutto i versanti tirrenici al nord Italia, molto meno invece quelli adriatici e le estreme regioni meridionali. Tornerà a nevicare sulle Alpi con neve anche in collina sui settori di nord-ovest. Attenzione perché verso il 2 gennaio non escludiamo la formazione di una piccola depressione sul Ligure con ulteriore richiamo di aria fredda da nord e quindi sorprese bianche per il nord-ovest, ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti. Quello che conta è comunque che non siamo in realtà in una situazione prettamente invernale, questo a causa della predominanza delle correnti atlantiche che si farà viva anche nei giorni successivi e quindi un pattern che continuerà a riproporsi almeno fino a 6 gennaio e vedete con perturbazioni che entreranno agevolmente sull'Europa centro-settentrionale interessando a tratti anche il Mediterraneo e l'Italia. Notate la posizione defilata degli anticicloni rispettivamente sul Mediterraneo orientale e sull'arcipelago delle Azzorre. Tempo a tratti piovoso soprattutto per il nord Italia, ancora una volta i versanti tirrenici, mentre spesso rimarranno più all'asciutto quelli adriatici e ionici. Altre nevicate sono attese sulle Alpi ma non si comunque intravedono episodi nevosi importanti fino in pianura proprio per la persistenza di queste correnti atlantiche fresche ma non fredde. Bene, per adesso mi fermo qui e per ulteriori dettagli venite a trovarci sul sito trabimeteo.com Grazie.